adesso volevo farvi vedere una cosa allora ve lo ricordate? ve la ricordate la terra dura, rocciosa quella, il caranto guardate con solo un giorno di pioggia cosa succede? come si sgretola guardate è impressionante una terra che prima asciutta non si rompeva nemmeno col martello adesso si sbriciola come fosse guardate e diventa terriccio grigio terriccio grigio che quando si asciugherà inquadrami questo Filippo terriccio grigio che quando si asciugherà diventerà terriccio bianco, biancastro, guarda fai vedere questo Filippo vedete qua che la parte esterna si è asciugata è diventata bianca vedete guardate come si sbriciola hai visto? guarda, guarda, guarda vedi? che ha fatto tutte le venature dell'acqua con un po' di acqua questa guarda, guarda vedi? guarda ecco vedete una terra che è asciutta è dura come la roccia da umida diventa friabile e lavorabile grazie i vari guarda awesome wow wow Grazie a tutti.